C'è il pallonetto straordinario! Cambia gioco, marcio lungo a cercare Guagliarella, difficoltà Belleri, ancora Guagliarella, rientra con il destro! E ancora Guagliarella! Guagliarella si gira! Gol strepitoso! Ropuro, Guagliarella, destro dal limite! E gran gol di Guagliarella! Rilancio di Berti, ancora Pazzania, la caccia del pallone, poi Volpi al volo! Guagliarella cerca il gol da centrocampo e lo trova! Lo trova un gol straordinario di Guagliarella! Grazie a tutti!